Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per lunedì 13 di gennaio insiste soprattutto sul centro nord dell'Italia un robusto anticicolone del razzorro il quale ci ammannirà il solito minestrone visto nelle ultime due settimane, ossia sì, bel tempo, qualche isolata pioggia solo su Salento, Calabria Ionica, Est della Sicilia, probabilità elevata di nebbia al di sopra del 90% secondo il nostro modello su Piemonte, bassa Lombardia, Basso Veneto, Emilia, Romagna, interno del centro, intensificazione delle gelate su tutto il centro nord tranne la Liguria e le zone costiere, massime intorno a 3-7 gradi sul nord Italia, 3 gradi laddove saranno presenti le nebbie, 10-12 gradi sulla regione centrale, 11-13 al sud sulle isole maggiori. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app che è semplicissima da usare.